Il Comune investe ancora di più sulla sicurezza del terminal di Colle Maggio, obiettivo rendere più sicura appunto e vivibile la struttura. Nel megaparcheggio nell'ultimo periodo sono stati compiuti atti vandalici, tante aggressioni e rapine, tant'è che sono presenti in modo fisso, forse dell'ordine e polizia municipale. È emersa la necessità di potenziare e diversificare le attività di controllo e sorveglianza nella struttura che è di proprietà del Comune e è gestita anche da esso. Oltre alla vigilanza già in uso quindi ci sarà un servizio di street tutor con personale autorizzato e qualificato che provveda non solo a monitorare le situazioni di rischio per la sicurezza del parcheggio e in caso di pericolo ad avvisare le forze dell'ordine ma anche a fare attività di inclusione sociale. Per ora il periodo di affidamento è ottobre-dicembre 2024. Questa non è l'unica novità perché la Giunta ha appena approvato una proposta di finanza di progetto all'interno dell'iniziativa L'Aquila Smart perché l'obiettivo è tornare pian piano ai parcheggi a pagamento in centro, nelle zone limitrofe e anche al terminal stesso. Si tratta di un progetto privato volto a modernizzare la gestione della sosta e del terminal con display, sensori e nuove tecnologie per l'utenza. Con la delibera appena approvata, la Giunta ha costituito un'unità di progetto che entro 90 giorni dovrà valutare la fattibilità della proposta. Nello scenario di medio e breve periodo infatti è intenzione del Comune ripristinare la sosta a pagamento nel centro e nelle aree di Corona, sospesa a seguito del terremoto e della conseguente ricostruzione. L'assessore Paola Giuliani ha spiegato che negli ultimi due anni queste società hanno chiesto al Comune dei dati per elaborare un progetto. Ciò non toglie che altri possano presentare dei progetti in fase di procedura finale. Questo però è un primo passo.